Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 19 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib. Ieri c'è stato un bel movimento, purtroppo non ero davanti ai monitor alle 13, ma qui sarebbe stata una grandissima occasione di short. Perché? Perché dopo una brutale discesa mattutina che mi ha fatto pensare a un raccordo per quanto riguarda questo T-2, ipotesi ancora al vaglio, abbiamo avuto una spinta fortissima di HFT a rialzo, che si è rimangiato tutto il gap down creato, anzi il lap down creato, e successivamente siamo andati in chiusura con un quarto T-3 inverso ribassista di T-1. Per cui sarebbe stato decisamente interessante valutare uno short in area medie mobili e dopo una candela shooting star come questa. D'accordo? E avrebbe pagato, magari in questo caso il rischio sarebbe stato di interrompersi qui alla prima finta perché saremmo andati sopra questo massimo. Però, caspita, se si fosse tenuto duro e se si fosse lasciato lo swing, o almeno lo stop loss sopra questo swing e questo massimo, avrebbe pagato veramente molto bene come discesa. Dove siamo a questo punto? Siamo con il punto interrogativo qui, anche se in realtà a questo punto temo che sia già partito il secondo T settimanale da questo minimo e che sia già vincolato a ribasso dopo soltanto 60 barre, che ci stanno tranquillamente a comporre un T-2 e danno inizia un T settimanale, finita e poi ripartenza. Il discorso per questa mattina sarà sicuramente quello di andare a vedere dove risaliremo per andare a chiudere il quinto T-3 inverso e da lì vedere se essendo partito anche il quarto T-3 giornaliero avrà senso andare a fare uno short, magari se si ritornerà in zona 19.977 ovvero media mobile a 50 periodi in death cross rispetto a quella a 200. Anche perché in quel caso da questo livello, ecco, andremo a vedere se si vuole salire o se si vuole scendere. In questo caso ricordiamoci che dopo aver dato più che vita al secondo T-2, si può tornare eventualmente a collassare. Questo nel caso che appunto il T settimanale sia già vincolato a ribasso per la violazione avvenuta ieri con questo minimo e poi finta rialzo. Veramente spettacolare. Però, come dicevamo, di inverso siamo arrivati a 18 barre su minimo 24, quindi abbiamo perlomeno 6 barre di salita, un'ora e mezza potenziale di salita questa mattina e bisognerà vedere se se la vogliono andare a prendere, però perché in realtà il nostro Fuzzimib ha dei future per ora leggermente negativi, meno 11 punti, mentre la Germania ha più 17, quindi magari chi dice la verità questa volta sono i tedeschi. Ok, quindi per questa mattina piano piano probabilmente potrà esserci una risalita anche soltanto un uncino a chiudere il quinto T-3 inverso e se partirà da lì appunto il nostro quarto T-3, dopo un T-5 rialzista si può vedere se in violazione dello swing inverso andare short. Per quanto riguarda il grafico siamo qui, quindi ricordiamoci che se questo terzo T-inverso darà vita a un T-1 ci sarà più spinta verso il basso, viceversa si proverà a ritornare verso l'alto. Di nuovo, volumi estivi, HFT che cambiano in 3 secondi passando da un lap down a una spinta fortissima a rialzo, a una spinta fortissima a ribasso e quindi ci si può divertire come si vuole se hai soldi, prima si guadagna tanto con dei long che si piazzano qui e iniziano a bombardare il mercato con i long, poi inizi progressivamente a vendere e caspita lo rispingi dove vuoi tu, praticamente a zero. In questo caso sarebbe stato molto più semplice su DAX mantenere uno short da questo, sempre dalle 13, poi il fatto che queste candele non sono andate sopra il massimo di questo e quindi sarebbe stato fantasticamente congeniale. Qui ho mantenuto appunto di più l'interpretazione raccordo rispetto a vera partenza del secondo T settimanale. La situazione però è la medesima, anche in questo caso il quinto T-3 inverso dovrà andare a chiudere e quindi dovremo avere un momento di salita da dopo l'apertura che sia dall'inizio e anche in questo caso con un target fino a 12.941 eventualmente, se ci sarà il tempo. Poi rivedremo la situazione perché è partito anche in questo caso il quarto T-3, bisognerà tenere conto uno che mediamente c'è una chiusura di T-1, seconda cosa che sotto l'eventuale swing inverso che si creerà si può andare di nuovo in short sempre secondo i tempi ciclici. Mi raccomando, tempi ciclici e volumi perché gli short rischiano di essere tra virgolette fraintesi. Per cui chi li sa utilizzare capisce perfettamente che cosa sto dicendo, chi non li sa usare invece dice eh ma là su giù no. Qui abbiamo fatto 1, 2, 3 e 4 un T-1 inverso rialzista. Qui abbiamo avuto la spinta per il secondo T-1, vediamo dove ci vuole portare ma ci sarà appunto un incinamento per la partenza del quarto T-3 e la chiusura del quinto T-3 inverso. Situazione abbastanza simile a quella su Fuzzimib con un inverted hammer che ci può dare spinta appunto a rialzo almeno per la prima fase della seduta. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.